Buona serata e ben ritrovati a Pillole di Fairplay. La nostra finestra quotidiana sull'attualità nella serata in cui il governo e le regioni sono a confronto per capire come sviluppare il cosiddetto super green pass, una stretta che viene invocata da molte parti alla luce della recrudescenza del contagio in vista soprattutto delle festività natalizie. Stasera ne parleremo assieme a Giovanni D'Apozzo, Presidente della Camera di Commercio di Porrenone-Udine e nonché Presidente della Conf Commercio della provincia friulana. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a voi. Allora, arriva il Natale, arrivano le festività ma si inizia anche a riparlare di zone gialle e zone arancioni. La posizione della vostra categoria, dell'associazione che rappresentate in vista di queste possibili strette sul green pass? La posizione è molto chiara, mi sono confrontato anche oggi con il Presidente Sangali, quindi una posizione che noi teniamo a livello nazionale ed è quella che corrisponde alla posizione del Presidente Fedriga. La nostra categoria non vuole premere sul freno per chi non è compito nostro, è compito della politica quello di imporre eventuali limitazioni o rendere obbligatorio il green pass. Quello che noi chiediamo però è che chi, e sono la maggior parte dei cittadini, ha del più dal proprio dovere e quindi ha fatto il vaccino, che sia il secondo, il terzo, questo poi è un qualcosa che dovremmo ancora capire, quanto il green pass è ancora valido e a quanti mesi con le prime indicazioni che erano state date al suo tempo. Ma chi ha fatto il vaccino e quindi deve avere praticamente una possibilità, una forma diciamo di premio all'interno di quelle che sono le restrizioni possibili in zona gialla e ancora più restrittive in zona arancione e quindi dargli una, allargargli quelle che sono le sue possibilità di fare una vita sociale maggiore, diciamo più ampia rispetto alle prescrizioni a cui devono sottostare con gli attuali diciamo disposti in zona gialla e in zona arancione. Ecco, c'è naturalmente il rischio di rivivere il Natale dello scorso anno con i locali chiusi, i negozi che hanno sofferto, un'economia che l'avete raccontato anche voi nelle ultime analisi sui dati congiunturali è in ripresa ma che rischia un nuovo freno se si dovesse ritornare insomma delle chiusure? Ci auguriamo proprio di no anche perché il nostro mondo sia del commercio, dei servizi ma dell'ospitalità, quindi ristoranti, bar, alberghi sono quelli che hanno più subito nel passato. Ma sono quelli anche che si sono adeguati per primi a quelli che erano disposti, indicati diciamo dal governo e quindi sarebbe una befa. Poi se lo valutiamo come ragionamento complessivo il nostro paese ha raggiunto mi sembra già quasi l'86% di persone vaccinate over i 12 anni, quindi ci dovrebbe essere una considerazione che i cittadini, proprio la gran parte dei cittadini, la quasi totalità dei cittadini, il loro dovere lo hanno fatto. Se questo ci riportasse in una condizione di quando non c'era il vaccino, di quando avevamo delle situazioni estremamente emergenziali, allora sarebbe difficile farlo capire non solo ai nostri imprenditori ma anche ai cittadini stessi, soprattutto quell'86% di persone che hanno creduto nel percorso vaccinale. Presidente, abbiamo ricevuto molte segnalazioni rispetto a dei mancati controlli sul Green Pass all'interno dei locali pubblici del territorio. Abbiamo ascoltato la voce dei cittadini per capire dunque com'è la situazione in città udine ma non solo. L'ascoltiamo assieme e poi commentiamo queste voci. A lei che esperienze ha col controllo del Green Pass nei locali, nei ristoranti? Ci sono quelli che chiedono e ti credono sulla parola, ci sono altri che non ti credono e verificano e ci sono quelli che non ti chiedono nulla. Ha visto un po' di tutto insomma qui in città? Sì, sì. Stamattina sono andato a prendere un caffè, mi hanno chiesto al Green Pass, sì, non hanno verificato nulla. Io sono sempre pronto a far verificare. Io mi presento già con il telefonino pronto per far vedere il Green Pass, però mi credo sulla parola ma non è soltanto un problema mio. A fianco c'è un'altra persona e hanno fatto la stessa cosa. Non mi è mai controllato, sono frulli dopo a me, personalmente, dopo non so, magari sono invisibili i controlli. A me l'hanno sempre chiesto dentro, non è che vado tantissimo, però me l'hanno sempre chiesto in bar. Finora mi hanno sempre controllato dove sono andata, non è che vada tanto in giro perché sono... però anche tu, no? Avete visto attenzione nei controlli o qualche criticità, qualche disattenzione? No, devo dire che anche in Carnia, io vengo dalla Carnia, comunque i controlli ci sono anche nei mercati o nelle fiere, quindi secondo me è importante che i controlli ci siano. Controlli anche con l'app o anche sulla fiducia, nel senso, avete il Green Pass? Controlli con l'app. Pizzeria dove vado spesso, mi hanno controllato la prima volta, ho visto che avevo il Green Pass, non mi hanno controllato più, però sapevano già che io l'avevo, perché mi conoscevano, però se andavo in un altro posto che non mi conoscevano, logicamente controllavano. In città i controlli ci sono abbastanza, se lei esce fuori in bed and breakfast o questa roba qui, delle volte fanno i furbi, nel senso che prima ti fanno sedere, prendono l'ordinazione e poi ti controllano il Green Pass. Allora voglio vedere che quando tu hai l'ordinazione sul piatto ti dicono no, esci perché non hai avuto il Green Pass, però in generale i controlli ci sono, devo dire, la gente è rispettosa. Sempre controllato regolarmente, sia in Italia, sia anche all'estero. Lei signora che esperienza ha anche qua nel territorio? Io sono d'accordo ad averlo, addirittura adesso per un banale caffè l'hanno chiesto, benissimo. Non è molto richiesto di bar, veramente, sì è vero. Lei la pensa in ugual modo o diversamente? No, no, lo penso allo stesso modo. Una situazione eterogenea, variegata sul territorio provinciale, da parte vostra quando era stato inserito proprio l'obbligo del Green Pass avete chiesto non si dia la patente da sceriffo ai ristoratori, agli esercenti perché non è quello il loro compito. Ci devono essere le forze dell'ordine a controllare un appello che si sente di fare anche agli associati per chi magari non rispetta fino in fondo il proprio ruolo. Mi sembra che dalle interviste fatte la gran parte richiedono il Green Pass ai clienti, quindi rispettano quelle che sono le prescrizioni in essere, quindi non vedo assolutamente uno stato di nonotemperanza a questo. Sì, è giusto ricordare che gli operatori devono fare, gli operatori ne hanno già subito abbastanza e il loro compito è portare avanti le aziende in un momento molto difficile. Quindi è giusto che richiedano e facciano il loro dovere, ma i controlli, chiamiamoli, di sorveglianza o di polizia non competono a loro, loro devono solamente richiedere a verificarlo, ma ripeto, dalle interviste che abbiamo sentito, diceva che la grande platea lo faccia. Poi ci sono situazioni un po' borderline, il caffè messo magari, il posto sulla vetrina a ridosso dell'ingresso, è dentro, fuori, molte volte diventa anche difficile gestire questo. Però, ecco, noi ribadiamo, ci sono delle regole, queste regole vanno rispettate e sicuramente la grande platea di tutti gli imprenditori, perché non è un problema solo del commercio, di pubblici esercizi, io vorrei vedere anche all'interno delle industrie o dei settori manifatturieri se viene fatta, diciamo, rispettare in modo pedicevo quella che è la normativa. Io sono fiducioso nel rispetto da parte degli imprenditori di quello che viene posto in istra, purché non sia chiaramente scaricato su di loro un compito che non gli compete. Grazie, grazie a Giovanni D'Apozzo, Presidente della ConfCommercio Udine, buon lavoro. Grazie, grazie, buona giornata a voi, grazie. Noi chiudiamo le nostre pillole di fair play andando ad ascoltare anche la voce in presa diretta di uno degli operatori del settore, un noto ristoratore che nell'Interland di Udine accoglie i propri clienti alle prese, naturalmente anche lui con questo dovere del controllo del Green Pass. L'intervista a Zago, di Angela Caino. Luigi Zago, ristoratore, a lei chiediamo di raccontarci come un ristoratore vive questo dovere, questo obbligo di controllare il Green Pass. Credo che sia comunque un atto dovuto perché comunque dobbiamo controllarlo. Noi non abbiamo un ristorante con tantissimi tavoli e quindi ci viene anche più facile, più semplice anche controllare, diciamo, il Green Pass. Io sono favorevole comunque a un controllo molto serrato di questo strumento. Anche per noi che comunque lavoriamo a stretto contatto tutti i giorni, pranzo e cena, al ristorante. La clientela come risponde? Noi abbiamo un tipo di clientela che comunque è molto attenta, controlla se noi controlliamo le persone che entrano e se noi controlliamo appunto, diciamo, il Green Pass. Noi controlliamo indistintamente che siano degli eventi piccoli, tipo tavoli da 4, da 6, da 3, quello che è, a tutti i matrimoni. Nello specifico anche degli eventi più grandi misuriamo anche la temperatura. Adesso si parla anche di questo Super Green Pass che porterà ulteriori restrizioni. Il tampone probabilmente non sarà più valido per ottenere il Green Pass per ristoranti, palestre, ma solo per andare al lavoro. Siete preoccupati da questo possibile passo avanti? Eh sì, sono preoccupato perché diciamo che soprattutto quando ci sono gli eventi praticamente c'è una fetta di clientela, un 10-15%, anche 20% che vengono con il tampone. E quindi in un evento diciamo che un 20% lo perderemo. Voi avete anche una clientela austriaca che in questo momento sta attraversando un momento difficile perché è scattato il lockdown. Da oltre confine che segnali arrivano? I segnali non sono incoraggianti. Avremo una clientela austriaca solamente di lavoro. Quindi chi ha delle grosse catene qui di supermercati, qui in Friuli, quelli verranno sicuramente. Ma per il resto la nostra clientela, quella diciamo solita, purtroppo ci ha dato già le disdette fino al credo al 18-19 di dicembre. Questa dunque la voce di Luigi Zago a rappresentare anche il sentiment di una categoria che guarda con tra l'altro molta incertezza quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Vedremo anche le decisioni ufficiali da parte del governo sul Super Green Pass. Pillole di Fair Play ritorneranno domani, come al solito, alle 19.30 con Francesco Pezzella. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.